Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video riguardante Pokémon Sun e Pokémon Moon Oggi non parleremo né di Fakemon né di probabili Pokémon né tantomeno di news purtroppo E inoltre non sarò neanche qua a dirvi che cosa voglio o non voglio nei prossimi giochi Pokémon Bensì vi andrò a disporre una mia breve teoria riguardante una possibile introduzione del mondo alieno nei giochi Pokémon È risaputo che sin dalla prima generazione esistono palesi riferimenti che affermano l'esistenza di Pokémon alieni Basti pensare a Clay Fairy giunto dalla Luna sull'omonimo monte Oppure a Starryu il quale pare che di notte comunichi con le stelle del cielo Nonostante queste e moltissime altre evidenze Per ora il contatto con possibili mondi extraterrestri è rimasto ancora un sogno accarezzato da molti E che spesso si concretizza in leggende metropolitane Come ad esempio quella del centro spaziale di Verde e Azzupoli Che sia la settima generazione quella prescelta per tale incontro Del resto il nome dei due titoli Sole e Luna sono molto legati al mondo dello spazio Inoltre un altro punto a favore di questa feature a mio parere quanto mai probabile Sarebbe l'analogia con l'episodio Delta di Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha E più in generale con tutta la regione di Yoen Considerata la presenza delle cascate meteora Se questo non dovesse bastarvi i riferimenti allo spazio non finiscono di certo qua Anche in Pokémon X e Y non esistono chiari collegamenti con l'universo Come ad esempio la sesta palestra nella quale sarà necessario superare un percorso ambientato proprio nello spazio Facciamo anche un'ultimissima osservazione Tutti ormai conoscete Upa Uno degli ultimissimi Pokémon scoperti Come saprete è in grado di creare dei portali che collegano altre dimensioni tra di loro Permettendoci, almeno nei remake di terza generazione, di catturare quasi tutti i leggendari Secondo una delle moltissime teorie riguardante i temutissimi buchi neri presenti in tutto l'universo Dove la materia, una volta inghiottita, sembra non tornare più indietro Essi sarebbero, guarda caso, proprio degli accessi per altri universi differenti dal nostro Osservando i portali creati da Upa Possiamo notare come ricordino proprio la forma di questi buchi neri Potrebbe tutto ciò essere un avvertimento I prossimi giochi potrebbero finalmente includere anche un mondo extraterrestre Ci si potrà muovere tra costellazioni, pianeti o addirittura tra dimensioni sconosciute Non sarebbe di certo la prima volta considerando gli eventi del Monte Corona in Pokémon Platino A voi la parola Avete riscontrato qualche altro punto che possa sostenere questa teoria? Oppure l'avete smentita? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto Quindi signori, il video può dichiararsi concluso Spero che vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale Commentate con la vostra qua sotto come ho già detto E mi raccomando passate dai social che trovate in descrizione Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video! Ciao! 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 Grazie a tutti.